Ancora un paio di mesi ed aprirà la nuova Casa della Salute Ceccano-Ceprano, la seconda, in provincia di Frosinone dopo quella di Ponte Corvo. A confermare l'apertura imminente della struttura è stata la professoressa Mastrobuono, direttore generale della ASL Ceociara, nell'ambito di un convegno sul diabete svoltosi in mattinata a Ferentino. Proprio nella Casa della Salute di Ceccano verranno attivati percorsi specifici per i malati cronici di diabete. Per quanto riguarda l'avvio dei percorsi, alla fine del mese di marzo inizieranno i percorsi per i pazienti cronici affetti di diabete nella struttura di Ceccano. L'apertura vera e propria della Casa della Salute avverrà contemporaneamente nelle prossime settimane. La nuova Casa della Salute sarà la più grande del territorio provinciale e diversi saranno i settori su cui andrà ad agire una risorsa per tutto il territorio provinciale, secondo la ASL. Ceccano naturalmente non è soltanto una struttura, una futura Casa della Salute che si occuperà esclusivamente di diabete. Abbiamo un progetto ben più ampio, oggi qui abbiamo parlato delle Case della Salute e anche della possibilità di individuare una Casa della Salute più grande, che è quella proprio di Ceccano-Sceprano, nella quale far convergere le patologie croniche più diffuse. Nel caso specifico saranno le patologie croniche respiratorie, le patologie croniche legate allo scompenso cardiaco, ma avremo anche particolare riguardo alle patologie di natura anche di tipo psichiatrico.